Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo ci troviamo nel giardino nel giardino del convento dei frati minori Cappuccini di San Giovanni Rotondo proprio accanto al grande piazzale della chiesa a cielo aperto di San Pio da Pietrelcina e oggi qui da questo luogo, eccola vedete, si intravede la cella di Padre Pio da Pietrelcina da lì usava salutare tutti i suoi figli spirituali, i pellegrini, tutti i devoti che giungevano qui a San Giovanni Rotondo ecco idealmente da quel luogo sta salutando anche tutti noi oggi perché vogliamo raccontarvi, come vedete in sovrimpressione, l'indirizzo di posto elettronica a cui ha scritto una nostra amica, ci ha raccontato la sua storia, ha chiesto l'anonimato allora noi la chiameremo Maria, come spesso facciamo Maria della provincia di Napoli che vuole condividere questa storia, questa sua testimonianza abbastanza commovente dell'intercessione che ha compiuto Padre Pio nella sua famiglia una testimonianza di fede, di fede profonda, di gratitudine che ci racconta come Padre Pio ha risposto alle sue preghiere in un momento di grande angoscia il nipote di Maria, un bimbo di soli due anni, viene ricoverato per 20 giorni in ospedale i medici non riescono a capire cosa lo affligge, avanzano così l'ipotesi di una grave malattia di fronte a questa terribile incertezza, Maria si affida completamente alla preghiera si affida a Dio e alla potente intercessione di Padre Pio pregavo Padre Pio, racconta, perché per noi, per la mia famiglia, è il nostro santo le sue preghiere sono incessanti, rivolte al Signore e a Padre Pio la cui immagine è esposta in tutta la casa la svolta arriva quando i medici scoprono che il problema del nipotino è legato alla celiachia una diagnosi certamente meno grave di quanto temuto e allora Maria attribuisce questa guarigione all'intercessione di Padre Pio lui me lo ha fatto guarire, ci scrive nella sua email decide così immediatamente di recarsi a San Giovanni Rotondo perché vuole dire grazie a Padre Pio, lo vuole fare personalmente una visita che è programmata qui a San Giovanni Rotondo proprio nel maggio scorso, il 19 maggio ma purtroppo il giorno prima della partenza Maria è costretta a disdire il viaggio quindi a causa di una febbre improvvisa quella notte, la stessa notte della partenza programmata Padre Pio le appare in sogno tu figlia mia devi venire a trovarmi io ti voglio vedere ci scrive la visione è vivida Padre Pio è accanto al suo letto in piedi, col saio, col rosario in mano e al risveglio la stanza è pervasa di un profumo di un profumo di rose, di un segno che è tangibile della presenza di Padre Pio determinata così Maria a seguire questo messaggio ricevuto in sogno parte per San Giovanni Rotondo diversi giorni dopo, il 26 maggio nonostante la sua grande paura di soffrire questo mal di viaggio il tragitto però si rivela sereno, senza alcun disturbo e ci scrive lui con la sua straordinaria percezione non mi fece sentire nulla ricorda Maria arriva finalmente al santuario con il cuore pieno di gratitudine pronto a ringraziare Padre Pio per questo miracolo che ha donato a tutta la famiglia una storia particolarmente significativa come tante che vengono raccontate a noi e che lei vuole raccontare in modo anonimo ma con tutta l'esperienza vissuta profondamente e sentita e lei scrive ho questa data incisa nel cuore perché è stata la prima volta che sono andata a San Giovanni Rotondo e molto presto ci riandrò perché lui mi chiede di tornare così conclude la nostra Maria con grande emozione con grande devozione a San Giovanni Rotondo a San Giovanni Rotondo